Un passaggio in moto, la voglia forse di fare un giro, poche centinaia di metri maledetti e la morte per entrambi. E' la tragedia più grande del piano di zona di Ariano Irpino negli ultimi anni. Perdono la vita due giovani, Giuseppe Iannone, 44 anni, e Jessica Mariano, 18 anni. E' successo tutto in pochi secondi, in via Vigiano Lungo, quella striscia di asfalto che costeggia la stecca di case gialle senza un nome, che porta agli alloggi ACP, meglio noti come Grattacieli. Un boato scuote gli abitanti, la domenica è soleggiata, molti sono affacciati ai balconi. La moto, una Suzuki 1100, come una scheggia impazzita, vola contro un muretto tra gli alberi. Entrambi, senza casco, secondo i vigili urbani, finiscono sull'asfalto, uno accanto all'altro. I medici del 118 tentano di rianimarli, ma non c'è nulla da fare. Troppo gravi le lesioni riportate. Le ambulanze restano per lungo tempo, ferme, sul posto, senza mai giungere in ospedale. Sul posto, oltre alla polizia municipale e i carabinieri, la tragedia, per uno strano scherzo del destino, si consuma all'altezza dell'abitazione di Jessica, dove la strada è ben visibile dalle finestre che affacciano verso il palasport. Dalle prime versioni, pare che la moto, che procedeva comunque a forte velocità, sia sbandata, secondo qualche deposizione raccolta, a causa di una grossa pietra, posta a centro strada che era stata usata poco prima per abbattere una serpente. Non ci sono segnali di frenata su quell'asfalto ballerino, tra l'altro dissestato e pieno di abballamenti in più punti. Scene strazianti, dolore, rabbia da parte dei familiari per i ritardi che si sono registrati nella constatazione del decesso. Per oltre due ore, i corpi senza vita dei giovani sono rimasti sull'asfalto. Le urla da parte dei parenti. Li avete lasciati a terra come delle bestie. Se era morto un politico, qualcuno che forse contava di più di quelle povere vittime, l'intervento sarebbe stato più immediato. Ci vuole fortuna, anche nella morte purtroppo. Il medico legale reperibile non si trova. Alla fine viene rintracciato Tomacchione che si reca sul posto, pur non avendo ricevuto alcun incarico. Il clima è teso, il ritardo è così enorme che nel frattempo si fa buio a Vigiano. Un buio pesto, una delle domeniche più tristi per questa comunità, provata già da altre tragedie quasi ogni anno, purtroppo con la perdita soprattutto di giovani. Il parroco Don Alberto Lucarelli ha corso subito sul posto insieme all'assessore Raffaele Lipizzi in vita alla calma. Si stringe intorno alle due famiglie e tenta in ogni modo di placare gli animi, ma non è facile resistere nel vedere quei due corpi a terra avvolti da lenzuola bianche come se fossero stati uccisi da qualcuno, da quel destino crudele che ha deciso la loro tragica fine. All'arrivo dei carri funebri salgono ancora di più le urla di dolore. Le due salme vengono trasportate nell'obitorio dell'ospedale di Ariano Irpino. Per Jessica il magistrato dispone il rilascio della salma, mentre per Iannone viene ordinata l'autopsia. Una passione per la moto, quella di Peppe, che non aveva abbandonato neppure di fronte ad altri incidenti, anche gravi, ce l'aveva nel sangue. Nonostante qualcuno lo aveva invitato più volte a distaccarsi da quelle due ruote maledette. Una famiglia sfortunata, già segnata da altre tragedie. Suo nipote Pasqualino, figlio della sorella Cristina, esattamente un anno fa morì stroncato da un aneurisma cerebrale fulminante. Solo pochi giorni fa lo avevano ricordato nel giorno dell'anniversario della sua morte nel santuario Madonna di Fatima. Le due famiglie, segnate dal dolore, Iannone e Mariano, abitano a pochi metri l'una dall'altra, come tutti in quel popoloso quartiere si conoscono fin dall'infanzia. Peppe, come lo chiamano sul tricollo, è conosciuto da tutti. Un uomo a volte spigoloso, ma dal cuore buono. Ha sempre riscattato tutto con la forza del lavoro. Quelle mani che sono state sempre il suo punto di forza ieri, non sono state capaci di fermare la motocicletta. Ha lavorato per una grande azienda del posto, la ditta di Enzo Localzo, che appena ha saputo dell'accaduto, incredolo, è arrivato in via Vigiano per stringersi intorno ai familiari. Ma da un po' di tempo Peppe stava lavorando per la cooperativa sociale Ariano, diretta dal fratello Gerardo. Stesso atroce destino in casa Mariano, qui però un fiore è stato strappato la vita troppo presto. Jessica, seconda di quattro figlie di papà Giuseppe e mamma Pasqualina Antonaccio, frequentava il quinto liceo linguistico dell'istituto Guido d'Orso. Aveva un sogno, entrare nell'esercito. Suo padre ha preso la tragica notizia al telefono mentre era in viaggio per Rimini, per motivi di lavoro. Si è girato per affrontare un viaggio di ritorno drammatico e inaspettato. La città si è addormentata in credola per l'accaduto, incassando un duro colpo, difficile da mandare giù.